E benvenuti ragazzi, benvenuti al vostro Federica14 Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovissimo video Ma in una nuovissima serie Perché vi farò vedere i miei portachiavi di Fortnite Sì, voi direte Ma scusa Fede, ma non ce li avevi fatti vedere nei primi 5-6 video? No, quelli là erano i personaggi di Fortnite Questi sono i portachiavi di Fortnite Iniziamo col primo portachiave Allora, il primo portachiave è il pesce secco Come potete vedere il pesce secco Una skin non comune Che costa 1200 V-Bucks Questa qua E niente, come potete vedere un portachiavi Perché c'è questo qua Il portachiavi E niente, il pesce secco Skin che costa 1200 V-Bucks nel negozio Se vi piace compratela E iniziamo col secondo personaggio Il secondo personaggio è il Ranger Natalizio Skin che è uscita a Natale Skin comune che costa 800 V-Bucks Se vi piace compratela nel negozio Come potete vedere c'è anche il suo piccone qua Il piccone del Ranger Natalizio E anche questo ovviamente è un portachiave Adesso andiamo con il terzo portachiave Il terzo portachiave stiamo parlando della calciatrice Skin non comune che costa 1200 V-Bucks Skin molto bella Fidatevi che è molto bella la calciatrice Come potete vedere con il numero 15 Skin che costa ovviamente 1200 V-Bucks Se vi piace compratela nel negozio E' una skin che non esce sempre nel negozio Vi raccomando Non esce sempre Quindi affrettatevi a comprarla quando uscirà E niente Ragazzi la prima parte dei portachiavi è finita Se vi è piaciuto lasciate un like Commentate e condividete Se non siete iscritti iscrivetevi Dal vostro Federico Nap Quotato e tutto Baci cuccioli Alla prossima